ciao ragazzi e bentrovati per questo nuovo video di chimica parliamo di forze intermolecolari che cosa si intende per forze intermolecolari nei video dedicati ai legami chimici presenti in questa playlist di cui avete il link in descrizione ho parlato di legami tra atomi quelli che vengono normalmente definiti legami forti o legami primari quando si formano dei composti ad esempio delle molecole tra queste molecole si possono realizzare interazioni di varia natura queste interazioni intermolecolari sono forze di natura elettrostatica che mantengono le molecole vicine tra loro queste forze sono dette legami deboli perché perché in confronto ai legami primari sono decisamente più deboli dal punto di vista dell'energia di legame queste forze intermolecolari hanno tra l'altro la caratteristica di essere delle interazioni a corto raggio cioè le molecole devono essere molto vicine affinché ci sia un'interazione tra queste molecole stesse inoltre la massa molecolare è fondamentale perché queste interazioni aumentano di intensità con l'aumentare della massa molecolare della molecola stessa distinguiamo tre categorie principali di forze intermolecolari o legami secondari ovvero il legame a idrogeno le forze di polo di polo e le forze di london in realtà il legame a idrogeno è un'interazione di tipo di polo di polo un po particolare alle ultime due viene dato il nome generico di forze di van der wals esistono però anche altre interazioni ad esempio l'interazione ione di polo e le interazioni di polo di polo indotto per descrivere le forze di van der wals consideriamo un concetto che già ho affrontato parlando di legame covalente ovvero il concetto di molecola polare e molecola apolare se non hai visto il video sul legame covalente o non ti ricordi qualcosa a proposito del legame covalente puoi dare un'occhiata quassù in alto a destra comunque ripassiamo i concetti e vediamo nuovamente di che cosa si tratta consideriamo queste molecole co2 h2o e ccl4 questa è la co2 questa è l'acqua e qui abbiamo il ccl4 introduco nuovamente un concetto che ho già trattato nel video dedicato ai legami covalenti polari ovvero il momento di dipolo o momento dipolare una grandezza vettoriale che tiene conto del fatto che questi legami tra carbonio e ossigeno sono polarizzati nel senso che l'ossigeno è più elettronegativo e introduce una parziale carica negativa su di sé mentre il carbonio ha una parziale carica positiva il momento di dipolo si indica con un vettore quindi una freccia che è rivolta verso la carica negativa in questa molecola ci sono due momenti di dipolo ma hanno la stessa intensità ma verso opposto quindi se noi avessimo ora metto dei numeri a caso 2 e meno 2 la somma fa 0 perciò la molecola co2 è una molecola apolare un discorso analogo vale per il tetracloruro di carbonio abbiamo dei momenti di dipolo che sono rivolti verso la parziale carica negativa in questo caso è il cloro che è più elettronegativo del carbonio la somma vettoriale di questi singoli legami che presi singolarmente sono polarizzati ci dà una somma vettoriale nulla quindi anche nel caso del tetracloruro di carbonio abbiamo una molecola apolare la stessa cosa non vale per l'acqua perché qui abbiamo un delta meno un delta più e un delta più ma i due vettori si sommano danno origine a un vettore risultante momento di dipolo che non è uguale a zero perciò questa invece è una molecola polare tutte le molecole con struttura axn sono apolari dove a è l'atomo centrale e x sono gli atomi legati all'atomo centrale ce ne sono un certo numero n come ad esempio nella co2 che ha struttura ax2 abbiamo visto che è fatta in questo modo ci sono due atomi legati all'atomo centrale di questo tipo di simboli ho parlato nel video dedicato alla teoria vspr alla geometria molecolare qua su in alto a destra trovi il link al primo video della serie sulla geometria molecolare se però sono presenti atomi diversi legati all'atomo centrale la struttura la possiamo indicare invece in questo modo indico con x e y gli atomi diversi legati a questo atomo centrale con n ed m che sono appunto il numero di questi atomi in questo caso le molecole sono generalmente polari ad esempio se prendiamo il ch2 cl2 abbiamo proprio una struttura di tipo ax2 y2 abbiamo anche qui una struttura tetraedrica ma in questo caso questi due legami sono polarizzati hanno la stessa intensità ma questi legami hanno un momento di dipolo diverso quindi non possiamo fare il discorso fatto per il ccl4 nel quale avevamo una somma algebrica vettoriale uguale a 0 in questo caso la somma vettoriale è diversa da 0 quindi la molecola risulta polare ricordate il famoso detto il simile scioglie il simile ovvero le molecole polari si sciolgono in solventi polari come l'acqua e le sostanze apolari si sciolgono in solventi apolari l'acqua scioglie bene anche i composti ionici perché grazie alla struttura dell'acqua che abbiamo visto è una molecola polare si possono formare delle interazioni che si chiamano interazioni ione di polo ad esempio se prendiamo un composto come il cloruro di sodio che è un composto ionico costituito da ioni cloro e ioni sodio la molecola d'acqua è fatta in questo modo con le parziali cariche negativa sull'ossigeno e positiva sull'idrogeno bene quando abbiamo il cloruro di sodio sciolto in acqua che si va a sciogliere in acqua abbiamo tante molecole d'acqua e che cosa succede che le molecole d'acqua tra virgolette si insinuano in questo reticolo per cui gli atomi di ossigeno delle molecole d'acqua circondano gli ioni sodio che sono positivi quindi in generale circondano gli ioni positivi mentre gli atomi di idrogeno che sono positivi circondano gli agnoni che in questo caso sono gli ioni cloro così facendo si frappongono tra le cariche del reticolo quindi vanno proprio a separare fisicamente gli ioni positivi dagli ioni negativi si insinuano e provocano proprio la dissociazione di cloruro di sodio che va proprio a formare na più e cl meno in soluzione acquosa si chiama interazione ione dipolo perché qui abbiamo degli ioni veri e propri e qui abbiamo un dipolo dovuto proprio alla differenza di elettronegatività di questi due atomi che danno origine a un legame covalente polare nel prossimo video continueremo ad esplorare le interazioni intermolecolari per adesso io vi chiedo di lasciare un like e se non l'avete fatto di iscrivervi al canale spero che il video vi sia stato utile se così condividete l'esistenza del canale io vi ringrazio e vi saluto alla prossima ciao